Un par di dia passato, ora nota l'iegata di un gruppo relativamente grande che abbia avuto l'avione nel nostro aeroporto. Fuori di un comunicato che noi ricevono, si comprova che è stato un gruppo di marina real che ha seguito un entrenamento di fast rope fuori avione speciale e moderno di tipo Osprey. Il tipo di entrenamento è stato realizzato conjuntamente con il corpo marino di Merca, del estado di North Carolina. Lo che chissà è stato un gruppo di militare qui, che è stato un gruppo un po' più grande del normale e che ha donato un'impressione che ci sia qualcosa di avere la situazione con il nostro paese vicino a Venezuela, che è stato un gruppo di scala una guerra civile. Chissà lo portano un'altra, come la madre patria, lo sta donando un'altra per la protezione? Noi, non so.